rieccomo in questo nuovo episodio della Tecnic in questo episodio mi va di cercare dei... no non andiamo avanti un attimo dei... dell'ossidiana mi va di cercare dell'ossidiana perchè devo andare nel letter il living road diceva che si è rotto il living road qui dice otto ci sarà qualche cosa oh oh valore 340 bene finalmente ci faremo un piccone buono si quando ce n'è queste tin la prendiamo oh che succede oro si ci serve anche l'oro anche se direi che è abbastanza inutile però ci serve va sempre comodo devo dire l'oro ah finalmente redstone aspetta quant'è? 133 vabbè che ora ci faremo quello la più potenziato uranio anche l'uranio quanto vale? 108 ah giusto devo mettere la torcia stavo scordando prendiamoci la tin andiamo a farci questo andiamo a potenziare questo aspettate anche ancora devo postare i diamanti che stupido dove che devo andare? sta ancora questo qua e vi devo far vedere anche un'altra cosa allora allora taglio mentre salgo ecco mi sono salito bene facciamoci cos'è questo rumore? sento uno strano rumore ok ecco qua ah questa è olvere aspettate adesso vi facciamo il piccone con questi cosi qui ok ad esempio se noi consumiamo un pochino questo piccone che è veloce come quello la di diamante però si consuma molto più facilmente guardate basta mettere questa olvere così il piccone qua e ce lo ridarà nuovo comunque qualcos'altro che vorrei fare in questa serie vediamo un pochino allora ecco no aspetta eccolo questa qua la transmutation table però ci serve sempre la philosopher's stone andiamo a cercare l'ossidiana quando la trovo vi avverto cioè riprendo il video ciao cioè ci vediamo dopo che sbagliato così dimenticavo che dovevamo fare una cosa allora qua dovevamo potenziare il bastone qua me la porto dietro magari aspettate me ne porto dietro tre pezzi in questo modo devo fare un'altra cesta me ne porto dietro tre pezzi in questo modo se si sta per finire il piccone lo aggiusto allora che cosa ci dovevo mettere dentro si questa roba qua no questo mi serve ok no d'accordo andiamo anzi no io vado poi sto per il video adesso ragazzi il nuovo bastone mi dice qua 1630 80 1600 no 16.384 vediamo un pochino cos'è che non può può mai essere che sia questa ghiaia? ci deve essere qualche cosa? no qua 256 256 ecco di qua cos'è copper? in tutto no non può essere andiamo a vedere un pochino più da vicino e questo? no il copper vale più poco e allora dov'è? vale quasi il doppio di diamanti questo affare qui no non è qua non è qua qua no oh qua ci stanno i diamanti siamo stati fortunati qui ci sono dei diamanti andando sempre dritto dovremmo trovarci lì davanti giusto? giusto? andando sempre avanti dovremmo trovarci i diamanti no saranno di qua no di qua di qua di qua di qua di qua si di qua non è il silver non vale così tanto il silver vale così tanto il silver vale così tanto buh sarò confuso sarò confuso io però di solito però io credevo che erano i diamanti allora questo questo pastone qua no? allora io però sono andato qua sotto per cercare l'ossidiano vediamo di non dimenticarmelo quanta tin che c'è? un attimo la tin non vale 200 qui sotto c'è della nicolite o della redstone no qui c'è del ferro ma comunque lo prendo qui tappo ma che livello? si sono al livello giusto per i diamanti però io dovrei cercare dell'ossidiano oh cristalli stato fortunato io direi di potenziarlo ancora di più vabbè adesso risalgo lo potenziavo con quello la di diamante così magari ci trova anche l'ossidiano sono salito sentite si sono salito allora adesso torno un po' taglione buongiorno si ok buongiorno mettiamo fame allora mi serve un diamante e un pezzo di carbone carbone l'ho messo giù eccolo qua che facciamo la polverina blu e con la polverina blu lo facciamo diventare il living road ancora più potenziato questo qua si può usare con più intervallo cioè con meno intervallo vabbè lasciamo perdere io devo cercare l'ossidiano e andiamo a cercare l'ossidiano ragazzi sento della lava probabilmente c'è pure l'ossidiano vicino alla lava provare oh mi hai dato a fare qua allora facciamo così allora adesso salgo su a vedere però sto facendo questo episodio troppo lungo ci vediamo nel prossimo